Allora, prima della partita tra Rossiglionese Sporting e Ghezremaia per Settimana Sport, Laura Piaggio e Mineto Paola. Laura Piaggio è segretaria del Rossiglionese e Mineto Paola è una tifosa che vedo molto artificionados quando ci sono le partite della Rossiglionese. Cominciamo con Laura Piaggio. Laura, come mai nella società? Nella società è più di dieci anni ormai che ci sono e ormai è una passione, una passione per il calcio, per il paese, che si fa tutto per il paese, per tenere qualcosa in piedi che funzioni, che raggruppi persone. Allora Paola, ti vedo molto accesa quando gioco alla Rossiglionese, vedo anche che ti confronti in modo molto acceso con gli avversari, come mai questo cambiamento? Adesso ti vedo tranquilla, però quando c'è la partita cambi totalmente espressione. Ora sono tranquilla perché devo fare l'intervista, poi dopo all'inizio della partita vi accederò un po'. Niente, io mi auguro che questa partita qua ci sia una vittoria, sarebbe il massimo, però auguro anche un bel pareggio. Ok, e tu Laura, fammi il pronostico. No, sono un po' diciamo cabale, non se ne fanno, diciamo speriamo di giocare bene e che sia una bella partita e di vincere. Ok, vediamoci la partita adesso. Grazie. Ciao, grazie a voi, ciao. Ciao, grazie, grazie.